Questi non se ne vanno sulle loro gambe se non rientrano in auto Non si ne vanno sulle loro gambe se ne vanno sulle loro gambe se ne vanno sulle loro gambe Non le fattoreste! Lasciateli stare! Lasciateli stare! Lasciateli stare! Lasciateli stare! Pergogna! 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 Dimmi perché! Arbitraria! Arresto arbitrario! Pergogna! Pergogna! E' una pirra! Pergogna! Che succede? Si tolga! E' una pirra! E' una pirra! Pergogna! Pergogna! Dica le motivazioni dell'arresto, voglio sapere le motivazioni del fermo, dica le motivazioni del fermo! Dica le motivazioni del fermo!